Lavori di riqualificazione del lungomare di Ponente praticamente anastri di partenza e pronti a riprendere dopo una sospensione durata ben 5 anni. Il Comune di Milazzo ha infatti comunicato che stamattina sono stati consegnati al Consorzio Stabile Cassiopea i lavori che avranno lo scopo di valorizzare ben 7 km di costa. Con le risorse disponibili saranno prima di tutto privilegiati interventi per lotti funzionali a partire dall'area del tono che al momento è la zona che indubbiamente necessita di ricevere maggiore attenzione. Nello specifico sarà sistemato con basole di pietralavica tutto il tratto che conduce sino alla cosiddetta Angonia del Tono, una delle zone paesaggistiche più belle di tutta la città di Milazzo e che merita adeguata valorizzazione anche per la presenza di una caratteristica e suggestiva chiesa intitolata alla Madonna del Tindari. Il tratto di strada sarà riportato su un unico piano e saranno realizzate discese a mare, installate panchine e piante e sistemati i parcheggi. L'obiettivo principale dell'amministrazione comunale è quello che tutti i lavori possano essere completati prima della stagione estiva al fine di evitare disagi e bagnanti che usufruiranno del litorale milazzese.